Claudio Baglioni torna e questa volta lo fa senza rivisitazioni e senza cover. Con voi è il suo nuovo album che arriva dopo 45 anni di successi e ben 10 anni dopo l'ultimo disco di inediti. Voleva abbandonare la scena Claudio Baglioni, ma quando a maggio si è presentata l'opportunità di questo progetto non è fuggito e l'ha preso a piene mani, perché Con voi è un progetto prima di essere un album, un agglomerato di canzoni inedite lanciate sul web prima di finire in un cd. Il progetto inizia il 18 maggio con il lancio dell'omonimo singolo Con voi su iTunes e poi via a ruota libera. A scadenza quasi bisettimanale arrivano tutte le altre 11 tracce, scritte di petto e registrate quasi immediatamente, lanciate sul web e attraverso i social network. È un successo, un successo che oggi è racchiuso tutto in un album aggiustato da un'introduzione, un intermezzo ed un finale. Un baglioni rinato in grado di emozionare sempre con la melodia delle sue canzoni e delle sue parole. Grazie.